ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video oggi vediamo come effettuare il cambio dell'olio e relativo filtro un'operazione relativamente semplice che sicuramente molti di voi già sanno fare però diciamo per chi non fosse avvezzo a questa tipologia di operazioni oggi vedremo insieme passo passo come procedere e soprattutto quali sono gli accorgimenti più importanti in primis ovviamente l'olio la cosa più importante quando dobbiamo cambiare l'olio ragazzi non dimenticate di comprare l'olio vi raccomando a parte le battute poi una volta effettuato il lavoro saliremo in studio e insomma vi darò alcune diciamo alcune dritte vi spiegherò qualcosa relativamente alla scelta dell'olio alle varie tipologie dell'olio eccetera eccetera olio e relativo filtro cosa molto importante quando sostituiamo l'olio motore è insomma tassativo sostituire anche l'olio questo perché perché all'interno dell'olio vi sono praticamente un sacco di residui di residui di sporcizia che praticamente l'olio motore nella sua funzione nel svolgere le sue funzioni va a togliere al motore e il filtro ovviamente le filtra e le tiene dentro di sé quindi è importante quando sostituiamo l'olio motore sostituire anche il filtro altrimenti è quasi inutile se ne abbiamo la possibilità è buona norma anche avere i cavalletti per sollevare la moto e riuscire a lavorare meglio una tannica per la raccolta dell'olio non è strettamente necessaria ragazzi però io ve la consiglio se utilizziamo vaschette tra virgolette così improvvisate poi per smaltire l'olio è un po' un problema nel senso che questa vaschetta fatta possivelmente per il cambio dell'olio ha questa conformazione come vedete ha una sorta di inbuto insomma una sorta di svaso che una volta che la posizioniamo sotto la coppa dell'olio ci basterà a togliere questo tappo dopodiché l'olio cola giù automaticamente va a finire nella tannica terminato questo mettiamo questo tappo la mettiamo in piedi e come vedete è un comodo fustino per trasportarla e smaltirla e ovviamente un rotolone di carta che è sempre utile una chiave per filtri olio questa è una chiave universale a vite molto comoda per effettuare più che il serraggio che si può fare tranquillamente a mano per sbloccare appunto il filtro vecchio e levarlo e come primissima operazione andiamo a riscaldare l'olio dalla moto se effettuiamo il cambio olio quando siamo appena rincasati e quindi abbiamo già utilizzato la moto l'olio è già caldo non è non non vè necessità nel caso invece abbiamo la moto nel box come nel mio caso l'olio è freddo in particolar modo nel periodo invernale adesso siamo a gennaio e quindi per riuscire a farlo defluire correttamente è buona norma scaldare per qualche minuto la motocicletta questo perché perché ovviamente l'olio caldo è molto più diciamo fluente defluisce in modo più efficace e quindi ne resterà molto meno all'interno del motore una volta che noi andiamo a togliere il tappo della coppa dell'olio per farlo appunto per togliere l'olio ok ragazzi lo lasciamo scaldare qualche minuto e nel frattempo organizziamo il resto e mentre la moto si scalda ragazzi procediamo a smontare quella parte di carena che appunto ci permette di effettuare il cambio dell'olio perfetto ragazzi carene smontate nel frattempo la moto è il motore caldo quindi l'ho spento e adesso procediamo con l'estrazione dell'olio ecco altra cosa utile anche se non strettamente essenziale meglio ve la consiglio ragazzi un paio di guanti in lattice quando maneggiamo l'olio uno perché comunque ha una certa tossicità e due per praticità perché poi andare a levarselo dalle mani è un grosso problema ok ragazzi allora ho smontato le carinature adesso andiamo ad individuare il filtro dell'olio che come vedete è posizionato lì in questo punto ed il tappo della coppa dell'olio che è posizionato invece in questo punto adesso procederemo a svitarlo e posizioneremo sotto la vaschetta per la raccolta dell'olio anzitutto procediamo a posizionare la vasca di raccoglimento sotto il tappo della coppa dell'olio svitiamo il tappo di raccolta un consiglio che vi posso dire per far depurire proprio fino all'ultima goccia per agevolare la fuoriuscita è di allentare e togliere il tappo di riempimento in questo modo praticamente l'aria entrando da qui e uscendo dall'altra parte agevola la fuoriuscita dell'olio ok fatto questo procediamo ad allentare il bullone che ci permetterà appunto di andare a ci permetterà di andare appunto a togliere l'olio svitiamo completamente attenzione che ok l'olio abbastanza caldo quindi defluisce molto bene al contempo mentre defluisce l'olio ragazzi andiamo a togliere il filtro dell'olio in modo che sia agevolata la fuoriuscita lo allentiamo un poco e adesso vediamo se riusciamo a finire di toglierlo a mano sì ok anche quando togliamo il filtro dell'olio ragazzi è buona norma andare a posizionare sotto un raccoglitore perché comunque un po di olio non rilascia ecco qua infatti come vedete ecco poi magari quando togliamo il filtro lo solleviamo in questo modo in modo che la maggior parte dell'olio resti dentro qui e possiamo farla fuoriuscire all'interno della vasca in questo modo ok fatto tutto questo fatta diciamo questa prima operazione non ci resta altro che lasciar defluire bene l'olio l'olio è quasi completamente defluito vi consiglio una volta che è fuoriuscita la maggior parte dell'olio che c'è all'interno del motore lasciatelo almeno ancora una mezz'oretta perché sembra che sia fuoriuscito dal tutto ma come vedete sta ancora gocciolando vedete dopo quasi una mezz'oretta che l'ho lasciato così non abbiate fretta magari nel frattempo potete fare altre operazioni date un'occhiata alle candele date un'occhiata al filtro dell'aria eccetera eccetera però appunto almeno una mezz'oretta lasciatelo così ragazzi così defluisce proprio bene e come vi dicevo già prima meno olio c'è all'interno del motore meno olio vecchio c'è all'interno del motore quando andiamo a inserire quello nuovo meglio è perfetto l'olio è completamente defluito adesso procediamo con l'emissione dell'olio nuovo piccola nota prima quando ho svitato il tappo della coppa dell'olio per far defluire se avrete notato mi è scivolato per un attimo in situazione mi è scivolato e è andato a finire all'interno della tannica nulla di grave io adesso andrò a consegnare l'olio per lo smaltimento altra cosa importante appunto non buttatelo dove capita ragazzi l'olio esausto e anche il filtro vanno smaltiti nel modo corretto è importante e niente appunto nel momento in cui vado a riversare l'olio recupero il tappo della coppa e dopodiché procediamo con l'emissione dell'olio nuovo quindi adesso rimuovo la tannica ragazzi inserisco il tappo in questo modo mi recco alla discarica per lo smaltimento e recupero il tappo della coppa dell'olio perfetto eccomi di ritorno ragazzi tappo recuperato cosa importante prima di andare a posizionare il tappo nella coppa dell'olio dobbiamo installarci la rondellina questa rondellina che è disponibile generalmente in rame e in alluminio io vi consiglio il rame che è il materiale migliore e se non sapete la misura esatta o vi recate col tappo un attimo dal fornitore a prenderlo oppure potete anche acquistarne di diverso diametro che tanto costano una stupidaggine ok lo posizioniamo in questo modo così questa è una cosa molto importante ragazzi perché se non c'è questa rondellina rischiate di avere delle perdite di olio non sono perdite importanti comunque sono perdite di olio sono una cosa antipatica perfetto andiamo a riavvitare il tappo della coppa dell'olio se volete fare un lavoro fatto bene è meglio utilizzare una chiave dinamometrica ragazzi per avere un serraggio corretto ovviamente dobbiamo andare a tarare la chiave dopodiché andiamo ad effettuare il serraggio perfetto una volta sentito il tac il serraggio è effettuato una volta avvitato il tappo della coppa dell'olio andiamo a posizionare anche il filtro dell'olio nuovo allora cosa importante come notate il filtro dell'olio ha una guarnizione in gomma in questa parte dobbiamo andare con un goccio d'olio ragazzi ad inumidirla quindi andiamo andiamo ad aprire un litro di olio ne versiamo una goccia possibilmente sul dito in questo modo e poi andiamo a spargerla su tutta la guarnizione ora questa cosa molto importante in modo da preservare la guarnizione da eventuali lacerazioni o danni che potrebbero comportare delle perdite d'olio posizionare abbastanza semplice essendo a vite una volta arrivato a fine corsa possiamo andare a stringerlo di un quarto di giro se riusciamo con le mani altrimenti ci possiamo avvalere sempre della chiave più che altro ragazzi dipende da dove è posizionato il filtro ok praticamente una volta arrivato a fine corsa ho fatto circa un mezzo giro ecco non di più non serve stringerlo eccessivamente ok allora ragazzi tappo della coppa dell'olio con la rondella in rame posizionato filtro dell'olio nuovo posizionato avendo cura di inumidire la guarnizione con un po di olio fresco adesso non ci resta altro che inserire l'olio nell'apposito foro di inserimento l'olio ecco una cosa importante ovviamente prima di procedere con questa operazione è importante anche sapere quanto olio contiene la vostra motocicletta questo perché uno perché lo dovete acquistare e in secondo luogo perché dovete saperne quanto introdurne dentro in questo caso ne vanno circa 3 litri virgola 5 3 litri virgola 6 io ne ho acquistati ovviamente 4 litri adesso ne inserirò un po meno diciamo del totale che è la motocicletta tiene dopodiché farò girare per alcuni secondi il motore in modo poi ad andare a verificare il livello e ripristinarlo nel modo corretto per agevolarci in questa operazione possiamo utilizzare questa sorta di imbuto apposito per fare questi lavori oppure in questo caso bardal ci agevola già ci fornisce diciamo nella confezione dell'olio questo tappo che ci agevola per inserire l'olio all'interno del motore le confezioni d'olio generalmente sono fornite di questa tacchettatura che ci permette di utilizzarne solo una parte in questo caso io ho dovuto inserirne 3,5 litri ed ovviamente queste tacche mi hanno aiutato chiudo con l'apposito tappo e vado a far girare il motore per un 30 secondi un minuto questo perché è importante perché ovviamente l'olio deve circolare in tutta la parte del motore e andare inserirsi anche nel filtro dell'olio dopodiché andremo a controllare il livello nell'apposita finestrella che dovrà essere compreso fra la tacca minima e quella massima perché è importante far girare per un attimo il motore perché appunto andando a distribuire l'olio in modo diciamo così più omogeneo ci darà diciamo una ci darà modo di verificare se effettivamente il livello che noi vediamo nella finestrella di controllo è quello corretto una volta accesa la motocicletta lo lasciamo girare al minimo non acceleriamo troppo 30 secondi un minutino poi andiamo a verificare nella finestrella dell'olio come vedete ragazzi in questo momento la finestrella di controllo questo piccolo oblo risulta vuoto questo perché l'olio sta circolando ok adesso andiamo a spegnere la moto e vediamo un po dove si posiziona se nel momento in cui andate ad avviare la moto ma soprattutto nei momenti successivi in cui la utilizzerete sentite un po' di odore di olio diciamo così bruciato comunque che si scalda non preoccupatevi è semplicemente quel poco di olio che defluendo dal filtro quando l'abbiamo tolto o dal tappo della coppa è andato a finire sui terminali di scarico e sui terminali scusatemi sui sui tubi di scarico della motocicletta ovviamente lo si pulisce con un po di carta per un po di residuo rimane sempre nel momento in cui si va a scaldare la moto che arriva ad alte temperature la tubazione dello scarico può succedere che appunto quella quell'olio lì si bruci e dia questo strano odore però non preoccupatevi è tutto normale ragazzi la cosa importante che dovete tenere d'occhio dopo aver effettuato l'operazione di sostituzione dell'olio del filtro e magari il giorno dopo o comunque di tanto in tanto per un paio di volte andare a controllare sia diciamo dove c'è il filtro dell'olio sia dove c'è il tappo della coppa che non ci siano perdite è abbastanza semplice perché generalmente dove riponete la moto e dopo che l'avete utilizzata se trovate delle macchioline di olio in terra vuol dire che appunto c'è qualcosa che non va diciamo in come avete proceduto per effettuare il cambio dell'olio ecco come vedete la finestra dell'oblò piano piano si andrà riempendo man mano che l'olio si riposiziona dopodiché andremo a verificarlo quindi tra un qualche minuto una decina di minuti andremo a verificare vedete piano piano il livello adesso si alzerà dopodiché appunto andremo a ripristinare il livello dell'olio in base a queste due tacchettature sopra e sotto quindi minimo e massimo questa operazione va fatta è importante questo ragazzi va fatta con la motocicletta dritta appoggiata sul sugli pneumatici quindi non sui cavalletti come io ce l'ho adesso ma appunto tolta dai cavalletti tenuta diritta e verificato il livello dell'olio a freddo ovviamente tolta la motocicletta dai cavalletti adesso provvediamo a verificare dalla finestrella dall'apposito blu il livello dell'olio per farlo dobbiamo ottenere la motocicletta diritta senza ovviamente esserci sopra ma in questo modo blocchiamo il freno davanti la tiriamo su dal cavalletto laterale ed andiamo a verificare nella finestrella come vedete almeno mi auguro sia inquadrata in questo momento ragazzi perché non ho modo di vedere la ripresa che ho con la camera con la seconda camera come vedete l'olio è lievemente basso questa è un'operazione che sarebbe meglio fare in due in modo che uno tiene correttamente diritta la moto e l'altro verifica dalla finestrella altrimenti appunto fate come sto facendo io adesso e in questo caso vedo che l'olio è leggermente basso quindi ne andrò a ripristinare un po senza esagerare ovviamente perché poi andremo a verificare nuovamente il livello ovviamente ragazzi ogni volta che aggiungiamo dell'olio stesso discorso accendiamo la moto la facciamo girare per 30 secondi un minuto magari anche due minuti e poi andiamo a verificare a freddo quindi a motore freddo andiamo a far la verifica tramite l'oblò perfetto ragazzi cambio olio e filtro effettuato adesso saliamo in studio facciamo le ultime considerazioni bene ragazzi eccoci in studio per fare le ultime considerazioni e capire un po soprattutto che cos'è l'olio motore a che cosa serve e perché è così importante sì perché l'olio motore è uno degli elementi più importanti per la longevità del nostro motore e di conseguenza della nostra motocicletta l'olio motore fondamentalmente è composto dal 70 per cento dalla base e dal 30 per cento dall'additivo la base praticamente può essere sintetica semisintetica o minerale sintetica generalmente quella più pregiata perché protegge meglio il motore semisintetica così così nel senso che abbiamo una base sintetica e un tot di base minerale e poi ci sono gli oli minerali che generalmente sono quelli più economici ma quelli che diciamo così proteggono meno rispetto a quelli sintetici altrettanto importante però è l'additivo che costituisce appunto il 30 per cento della della composizione dell'olio perché è così importante anche l'additivo perché pulisce riduce la corrosione e rallenta l'ossidazione del nostro motore ora che abbiamo visto come è costituito l'olio del motore andiamo a capire un po che cosa significano quelle sigle che generalmente troviamo sia sui libretti di uso e manutenzione che praticamente determinano il tipo di olio che va nel motore e quindi di conseguenza le ritroviamo anche sull'olio stesso fondamentalmente queste sigle determinano il grado di viscosità perché è così importante il grado di viscosità e soprattutto perché è differenziato da un motore all'altro piuttosto che da un luogo all'altro un tipo di motore ha bisogno di una certa viscosità che è soggetto ovviamente a come è stato progettato e come funziona ma anche fondamentalmente nell'ambiente in cui lo si utilizza è ovvio che se utilizziamo un'auto o una motocicletta al polo nord ragazzi servirà un olio diverso da quello che utilizziamo che ne so in sicilia tanto per darvi una un'idea e perché è così importante appunto il grado di viscosità perché fondamentalmente l'olio motore per proteggere e per svolgere bene le sue funzioni deve avere una certa viscosità quando il motore si avvia quindi a freddo perché è la fase più delicata nel momento in cui avviamo il motore se l'olio non lubrifica e non diciamo non lavora correttamente rischiamo di danneggiare il motore però al contempo si potrebbe pensare a questo punto è sufficiente avere un olio molto fluido di conseguenza quando accendiamo il motore è fluido e quindi gira bene no perché poi quando si scalda ovviamente l'olio si fluidifica e diventa ancora più scorrevole quindi è qui diciamo il problema deve essere scorrevole il giusto a freddo ma poi non diventare troppo scorrevole quando il motore è caldo quindi in temperatura di esercizio perché altrimenti se è troppo scorrevole scivola via dalle parti metalliche e non le protegge a modo non le protegge a dovere per questo è importante scegliere un lubrificante di qualità e non andare risparmio entrando invece nel merito delle sigle per capire che cosa scegliere a cosa funzionano generalmente sono costituite da due numeri e da una lettera di solito vi faccio un esempio pratico 10 v 40 il 10 si riferisce alla viscosità a freddo e la v si riferisce appunto a sta a significare winter quindi inverno di conseguenza il primo numero con la w accanto sta a significare la viscosità appunto a freddo dopodiché invece il secondo numero che troviamo 10 v 40 il 40 invece sta a significare il grado di viscosità che ha l'olio a caldo per questo è sempre importante rispettare le indicazioni che ci fornisce il costruttore per quel che riguarda appunto il tipo di olio da usare in questo video ragazzi non entrerò nel merito di consigliarvi una marca piuttosto che un'altra di olio perché uno non mi sembra corretto e due non ho fatto questo video per quello ma semplicemente per farvi vedere come si sostituisce l'olio motore e perché è così importante scegliere un olio motore di qualità bene amici anche questo video si conclude qui vi raccomando se vi è piaciuto mettete un bel like ragazzi che è importante iscrivetevi al canale invitate altra gente ad iscriversi al canale condividete il video sui vostri social tutte cose queste che a voi non costano assolutamente nulla ma per noi che realizziamo contenuti per intrattenervi su youtube sono davvero molto molto importanti ragazzi il fatto che un canale cresca che abbia più like eccetera eccetera è una cosa che ci consente di crescere e quindi di poter continuare a fare quello che ci piace fare ma soprattutto quello che a voi piace vedere ovviamente non lo dico solo per il mio canale ragazzi come al solito ma per tutti i canali che vi piacciono quindi condividete mettete like iscrivetevi ai canali supportateci quanto più potete ragazzi ripeto voi non costa assolutamente nulla ma per noi che realizziamo i contenuti per intrattenervi il vostro supporto è davvero davvero importante ragazzi quindi mi raccomando ed ovviamente noi ci vediamo in un prossimo video iscriviti al canale iscriviti al canale grazie a tutti